5, 4, 3, 2, 1, via! Sinistra 5 si restringe, diventa 3 dopo il bivio, cunetta stai all'interno, destra 1 lunga si apre, 100 su crinale, sinistra 5 lunga si restringe, diventa 4, 60, destra 4 lunga 130 su crinale, destra 5 lunga 130 su crinale, sinistra 3 poi sinistra 2 lunga, e sinistra 4. In destra 4 lunga si restringe, diventa 3, sinistra 6, 60, destra 5 si restringe, diventa 4, sinistra 5 crinale, 80 e sinistra 3 in media, 100 su attraverso tunnel, destra 4 si restringe su cunetta, in destra 6, sinistra 6, destra 4 si restringe subito, tornante destro, in sinistra 6. Intornante destro medio, destra 6%, sinistra 4, 60 su crinale, destra 5 si restringe, diventa 4, in sinistra 3 si apre, destra 5, in attenzione sinistra 5, destra 1 lunga non tagliare, In sinistra 3 lunga 100, destra 3, destra 3 su crinale 60, destra 3 poi destra 3 su crinale 60, Destra 4, 60, sinistra 1 lunga, in destra 4 lunga, e sinistra 4 lunga, in sinistra 6, 60, destra 6, sinistra 5 lunga su crinale, in sinistra 6 media, Destra 5, 60, destra 6 subito tornante sinistro, lastre di ghiaccio da qui, in destra 6, in sinistra 6 media, stai al centro su crinale, 150, tornante dentro, 100, sinistra 6 lunga, tieni la destra su crinale, 80, fai molta attenzione, Destra 5 si restringe, diventa 4, sinistra 3 si restringe, su connetta non tagliare, destra 6 crinale, sinistra 6 si restringe, In destra 5 non tagliare, e sinistra 5 poi destra 4, in sinistra 2 si restringe, 150, destra 6, in destra 4 si restringe, diventa 3, Sinistra 1 si apre 100, destra 5, e sinistra 6 poi destra 5, in sinistra 5 lunga si restringe, diventa 4, e destra 2, destra 1, sinistra 3, 150 su accostamento, Tieni la sinistra su crinale, tieni la destra su crinale, destra 6 lunga si restringe, diventa 5, e continua 80, sinistra 5 lunga, su crinale 60, tornante sinistro, In destra 3 lunga, si apre 100, attenzione, sinistra 5 lunga su crinale, curva difficile con vesta, E sinistra 5 media si restringe, subito tornante dentro, 80, destra 5 media, sinistra 4 e destra 4 media, 80 su crinale, Sinistra 4 lunga 100, tieni la destra su crinale 80, destra 6 lunga 60, attenzione, sinistra 4 media scivoloso, e destra 5 media su crinale, Sinistra 4, e attenzione, destra 6 continua 100, non tagliare, intornante sinistro, 100, sinistra 6 lunga, e destra 4, Ancora lastre di ghiaccio da qui, in sinistra 5 media non tagliare, e destra 4 lunga, in attenzione, sinistra 6 non tagliare, crinale, in destra 3 si restringe, diventa 2, Sinistra 4 lunga non tagliare, destra 3 si restringe, diventa 2, 80 su crinale, Sinistra 6 continua 100, su crinale 80, attenzione, sinistra 4 lunga, poi tornante destro, Sinistra 6, e destra 4 lunga, e destra 5, sinistra 6, destra 6 media su crinale 80, crinale sinistra 1 media 100, Trade ghiacciata da qui, sinistra 6 su crinale 60, caudella destra 5 si restringe, diventa 4 non tagliare, Sinistra 6, poi destra 6, sinistra 5 60, sinistra 4 lunga, su crinale continua 80, attenzione, sinistro, 60, Destra 5 lunga si restringe, su crinale continua, in sinistra 5 130, attenzione, tornante destro, 100, stai al centro su crinale, sinistra 6 60, sinistra 4 lunga, destra 5 stai all'interno, Sinistra 6 media lunga, stai all'interno 100, attenzione, destra 6 lunga, su affossamento, frena tornante sinistro, 100 salita, sinistra 6 media clinale, attenzione, sinistra 6, destra 5 si restringe, poi tornante destro, 60, sinistra 6 60, destra 6 lunga, poi sinistra 6, e destra 3 lunga crinale, destra 6 80, sinistra 5 lunga, stai all'interno, e destra 4 lunga 80 su crinale, sinistra 4 lunga crinale, in destra 4 si restringe, diventa 3, in sinistra 4 lunga, stai all'interno, destra 5 lunga, sinistra 5 media crinale, destra 6 lunga, sinistra 5 media 60, curva destra 1, attra 4.